Ciao, parliamo oggi dei servizi OGC. Cosa sono e a cosa servono? Iniziamo innanzitutto dall'acronimo OGC sta per Open Geospatial Consortium. È un ente non profit internazionale che ha lo scopo di definire specifiche tecniche in campo GIS. Tutti i settori industriali hanno bisogno di specifiche tecniche, norme che definiscono degli standard procedurali, ad esempio come le norme ISO. Anche il settore GIS ne ha alcune e sono definite appunto dall'OGC. Focalizzandoci sull'ambito GIS abbiamo ad esempio lo standard shapefile, lo standard geopackage, lo standard geogson, giusto per parlare di alcuni formati tipici dei software GIS. Il sito web dell'Open Geospatial Consortium ha una casella di ricerca in cui è possibile andare a ricercare eventuali specifiche tecniche e, come potrai vedere, la sezione relativa di standard è ricca di una serie di informazioni che fanno capire davvero quanto siano importanti questi standard e ti fanno appunto entrare in quello che può essere un macromondo, che è proprio il macromondo degli standard. Tra questi standard abbiamo i servizi OGC. I servizi OGC sono degli standard di distribuzione del dato GIS sul web e questi sono il WMS, Web Map Service, il Web Feature Service, il Coverage Service, eccetera, eccetera. Sono davvero tanti e servono appunto per distribuire il dato cartografico nella maniera più standardizzata possibile. In Italia abbiamo vari esempi di amministrazioni pubbliche che distribuiscono i loro dati usando questo tipo di servizi, quindi servizi OGC. Tra questi abbiamo il Geoportale Cartografico Nazionale, di cui ti lascio il link, l'ISPRA, anche qui avrai il link, e quelli che sono i vari portali cartografici regionali e comunali. Per poter distribuire questi servizi si sfruttano generalmente dei software, diciamo così, delle vere e proprie infrastrutture che sono definite server cartografici. Uno di questi software è GeoServer. Qui siamo all'interno di GeoServer, del mio personale GeoServer, in cui c'è una lista di una serie di dati cartografici che ho caricato all'interno di GeoServer che vengono distribuiti poi secondo quelli che sono i formati OGC che andremo a vedere a breve. Il primo che andiamo a vedere è il formato VMS. Il VMS è un servizio di distribuzione del dato cartografico, sia esso vettoriale che raster, sotto forma di immagini. Ad esempio andiamo a prendere quello che è il dato relativo all'istat, sono dei riquadri istat elaborati da me e l'output è appunto una immagine di questo servizio. Questo va sì che dati molto pesanti possono essere gestiti e ridotti in piccole mattonelle chiamate tile. Al variare dello zoom si passa da tile di dimensioni maggiore a dimensioni minore e viceversa, secondo quello che è un sistema piramidale. Ad esempio se provo ad aprire questo dato qui relativo all'NDVI, ottengo questo raster che nella realtà è davvero molto grande, mi pare di ricordare che pesa intorno al gigabyte e mezzo, ma siccome poi questo è distribuito come immagine, come potrai vedere man mano che vado a avvicinarmi migliora quella che è la qualità del dato e si vanno a generare quelle che sono le tile di cui ti parlavo in precedenza. È importante notare che le informazioni contenute nella singola primitiva geometrica, in caso di un vettore o nel singolo pixel, nel caso di un grid, di un raster, non vengono perse. Infatti un servizio WMS ha memoria, per così dire, del dato che lo ha generato. Per cui con una chiamata, cosiddetta getFuture, è possibile leggere le informazioni trasportate dal dato al click su un'area di nostro interesse. Questo servizio però non consente di scaricare in locali dati, quindi non possiamo esportare l'informazione dell'area in esame in nessun formato file. Abbiamo poi il WFS, che è un servizio di distribuzione del dato vettoriale che consente anche il download del dato stesso. Quindi è possibile esportare l'area di nostro interesse in uno dei formati vettoriali soliti, come il jpackage o lo shapefile. Al vettore di nostro interesse è ovviamente associato anche la relativa tabella attributi, per cui avremo un set di informazioni complete sul nostro PC. Ad esempio, nel caso di queste geometrie relative agli edifici, il servizio WFS qui mi consente di scaricare o un GeoJson, un KML o uno shapefile. Quindi nel momento in cui io vado a cliccare su questa informazione, posso andarmi a generare quello che è il dato di mio interesse, oppure esportarlo qui come KML, ad esempio. Un altro dato interessante, o meglio un altro servizio interessante, è il WCS, il Web Coverage Service, che è un tipo di servizio di distribuzione del dato, questa volta raster. Quindi in questo caso possiamo effettuare quello che è il download dell'area di nostro interesse e quindi possiamo andare ad analizzare poi in locale sul nostro PC il GeoDiff, ad esempio, che abbiamo esportato. Quindi essendo questo un dato esportato in formato grid completo, non una semplice immagine, avremo anche l'informazione relativa contenuta nel suo pixel a disposizione sul nostro PC. Eccoci qui sul sito del GeoPortale Nazionale. All'interno del GeoPortale Nazionale è presente la sezione Servizi e navigando nel menu è possibile arrivare a Servizi di rete OGC. Cliccando sul relativo link è possibile poi andare a vedere quello che è l'elenco dei servizi OGC disponibili, cioè il CSW, WMS, WFS, WCS e WPS. Quello che andiamo a utilizzare in questo caso come primo servizio OGC è il WMS. Cliccando sul link si ha la possibilità di accedere a tutto quello che è l'elenco dei servizi disponibili, sono davvero tantissimi e ti consiglio di andarli a guardare perché magari potrebbero esserci dei servizi che ti tornano utili in ambito lavorativo. Quello che andremo a usare noi adesso è questo qui relativo all'area a potenziale rischio significativo di alluvione. Basta cliccare qui su copia URL, viene ricopiato questo URL nella memoria del PC e adesso passando in QGIS sarà poi possibile andare a inserire questo servizio tra i servizi disponibili. Io per comodità e per abitudine cerco sempre di avere come dato di sfondo un dato noto. Quindi in questo caso ho caricato in maniera molto rapida un vettoriale di quelli che sono tutti i poligoni delle regioni italiane e questo mi serve perché in alcune circostanze potrebbero esserci dei servizi che possono essere resi disponibili solo ad alcune scale di zoom, come ad esempio il servizio del catasto italiano. Per cui avere un riferimento su dove si sta andando a zoomare e in che area ci si trova è sicuramente comodo. Questo comunque non è un passaggio obbligatorio. Allora innanzitutto andiamo ad aggiungere quello che è il nostro servizio di interesse, il WMS in questo caso, cliccando appunto qui sul relativo menu all'interno del data source manager di QGIS e possiamo andare a creare un new service, lo chiamo area rischio, si incolla qui in url quello che è il link che abbiamo appena prelevato dal geoportale e quindi si clicca su ok. A questo punto basta cliccare su connect e verrà caricato il servizio e verranno poi mostrati quelli che sono le componenti del servizio. In questo caso è un servizio che distribuisce tre layer distinti. In alcuni casi vengono distribuiti soltanto, viene distribuito soltanto un layer in altri più di un layer. Questo servizio distribuisce questi tre layer distinti che sono dei dati che sono significativi per lo studio effettuato per tirare fuori questo tipo di informazione. In quest'area qui possiamo scegliere anche il tipo di output, quindi la codifica, il dato che andremo a visualizzare nel canvas di QGIS. Io insomma lascio PNG ma è possibile poi andare a cambiare anche il tipo di encoding. E per poter caricare il dato nella TOC lo si seleziona e quindi poi cliccando su add questo viene inserito qui nel menu. Ad esempio proviamo a caricare anche quest'altro. E come possiamo vedere sono un layer lineare, un layer poligonale, vediamo l'altro che tipo di informazione e un layer puntuale. Quindi abbiamo tutte e tre le primitive geometriche in questo servizio WMS. E in questo caso non visualizziamo nulla, molto probabilmente perché è un servizio veicolato in funzione di quello che è il livello di zoom. Quindi proviamo a zoomare su una qualche area, qui sull'area del Lazio, vediamo se compare qualche tipo di informazione. Eccola qua, infatti. Siamo al di sotto del 200.000, compaiono le informazioni contenute in questo WMS. Quindi come dicevo in precedenza, questo è un servizio di sola consultazione. Essendo un servizio di sola consultazione possiamo andare soltanto a interrogare quello che è il nostro dato visualizzato, ad esempio in questo modo, e andare poi a leggere quello che è l'informazione che ci viene restituita. quindi ci sono una serie di informazioni anche relative a servizi e link esterni e bisognerebbe poi andare a leggere quello che è il relativo manuale d'uso di questo servizio per andare a decifrare quelle che sono le informazioni in questo contenuto, ad esempio i codici e il local ID a cosa fa riferimento. Comunque questa è la modalità con cui vengono utilizzati questo tipo di servizi in sola visualizzazione ed interrogazione. Non è possibile effettuare nessun download del dato con i servizi WMS. Andiamo adesso a consultare i servizi di scaricamento. Iniziamo dal WFS in cui appunto abbiamo la possibilità di scaricare dati di tipo vettoriale, quindi i più noti shapefile o se li andiamo a salvare in un altro formato, ad esempio potremmo salvarli come jpackage o jjson. Quindi cliccando sul link comparirà quello che è l'elenco di tutti i servizi disponibili. E qui c'è l'elenco di tutti i dati e quindi di tutti i servizi, anche se è un elenco molto corposo. E in questo caso andiamo di nuovo a scaricare il dato relativo alle aree a potenziare il rischio significativo di alluvione, ma questa volta non come WMS ma come WFS. Quindi copia URL. Torniamo in QGIS. E quindi a questo punto andiamo a creare il nuovo layer di nostro interesse, il nuovo servizio di nostro interesse. lo chiamo aree. Ovviamente ci si può dare un nome più significativo e più lungo, io per rapidità insomma vado abbastanza veloce con un nome di questo tipo. Cliccando su ok e poi successivamente su connect è possibile andare a rivedere quelle che sono le tre informazioni, quindi tre layer che erano anche presenti nel WFS. E quindi possiamo andarci a scaricare quello che è in locale, quella che è la nostra informazione e eventualmente se conoscessimo per bene quella che è la struttura, perché magari l'abbiamo utilizzato precedentemente questo tipo di servizio, effettuare poi direttamente delle query sul dato per estrarci solo una tipologia di informazioni piuttosto che tutto il pacchetto. Quindi qui c'è tutta la SQL Statement, quindi possiamo andare a scrivere in maniera molto chiara quella che è la nostra query di selezione e poi andare a inserire eventuali ulteriori specifiche oltre alla possibilità di andare a ordinare il dato. Qui appunto ci sono le funzioni, le eventuali funzioni geometriche che possono essere attivate, i predicati spaziali per valutazioni relativa a quella che è l'uguaglianza, il contenimento e l'overlap delle informazioni e quelli che sono poi gli operatori classici, dagli operatori booleani e quelle lì logici. Ovviamente noi non inveghiamo troppo questo aspetto in questo piccolo video. E andiamo a caricare ad esempio quello che è il dato di nostro interesse. Con un doppio click si può su quello che è il layer si può andare a riaprire quella maschera di SQL che è presente anche qui. Quindi a questo punto poi clicchiamo su add, il dato viene caricato nella TOC e piano piano poi scaricato in background. è possibile anche andare a creare una query su quello che è il nostro dato cliccando su build e query, oltre che quindi su un doppio click sul layer stesso. Clicchiamo su close e andiamo a zoomare su quest'area. In questo caso queste informazioni lineari sembrano non essere distribuite con il blocco relativo a livello di zoom, come per il WMS. Siccome queste informazioni ci stiamo scaricando sono delle informazioni di tipo vettoriale, avranno anch'esse quella che è la tabella attributi, per cui andando ad aprire quella che è la tabella attributi possiamo andare a vedere tutti gli elementi che compongono questo tipo di informazione, come si può vedere qui. e poiché questa è appunto una tabella attributi in un dato vettoriale è possibile andare a fare anche le classiche selezioni, così proprio come se fosse un vettore che abbiamo il locale sul nostro PC. Quindi ad esempio facciamo delle selezioni relative all'ultima colonna e ricerchiamo tutto ciò che ricade nel distretto Sicilia. Ecco qui sono state evidenziate all'interno della tabella attributi queste informazioni e possiamo andarli anche a visualizzare su mappa con il classico zoom alla selezione. E sono queste geometrie che vediamo qui un po' sparse. Andiamo a vedere anche la restante parte dei dati. Queste qui sono le informazioni di tipo puntuale. Ho ricaricato di nuovo quelle lì tipo lineare. Ed ecco qua quelle che mi interessano andare a vedere quelle di tipo poligonale. Essendo le geometrie poligonali molte di più rispetto a quelle lineari ci impiegherà un certo tempo per effettuare un po' di buffer che ci consente quindi di poter utilizzare il dato in locale senza troppi rallentamenti. Come potrai vedere qui sta caricando in questa zona qui della Sicilia pian piano un po' di dati vettoriali. Ecco qui appena ultimato. E aspettando magari ancora qualche secondo verrà effettivamente terminato il download delle informazioni che sono praticamente a scala nazionale per cui devi immaginare che si stanno scaricando tutti i vettori e tutti i dati puntuali a scala nazionale. Ecco il dato è stato scaricato e effettuando uno zoom su tutto il territorio italiano anche qui pian piano vedremo comparire tutte le feature vettoriali che rientrano in questo VFS. Ovviamente anche per questo dato di tipo poligonale vale la regola della tabella attributi per cui è possibile andare ad aprire la tabella attributi e consultare tutti i dati messi presenti effettuando anche quelle che sono le selezioni sulla tabella e poi anche la visualizzazione sul mappa della selezione. Tornando di nuovo sul geoportale nazionale sempre all'interno di quelli che sono i servizi di scaricamento adesso andiamo a consultare i WCS che sono i servizi per i dati raster quindi per le coverage. Cliccando come al solito sul link comparirà l'elenco di tutti i dati scaricabili sono un po' meno rispetto agli altri servizi precedentemente visti ma quello che magari può tornare interessante e utile ad esempio è il modello digitale del terreno da 20 metri. quindi basta come al solito cliccare qui su copia url viene copiato url in memoria e andando in QGIS la procedura è praticamente sempre la solita quindi WCS andiamo a creare un nuovo servizio incogniamo quello che è il link dal portale e quindi ok connect e in questo caso è un servizio che distribuisce un solo layer quindi soltanto quello che è il modello digitale del terreno a 20 metri siccome adesso se aggiungo questo layer nella TOC mi andrà a scaricare il DEM di tutta l'Italia ci vorrà un po' di tempo effetterò prima uno zoom su un'area nota cercando un po' di alleggerire quello che è il tempo di processamento quindi ritornando qui una delle ultime opzioni che ho attivato appunto è il WCS qui appena creato e con add andrà a essere aggiunto il raster all'interno della TOC che è poi visualizzato su mappa è stato aggiunto possiamo iniziare a vedere che stiamo iniziando a caricare le informazioni abbiamo la quota minima e la quota massima di questo grid 0.4380 metri e a breve sarà anche possibile andare a visualizzare e a consultare quello che è il dato ovviamente lui adesso si sta scaricando tutto il DEM per cui farà un po' fatica a gestirlo erroneamente ne ho aggiunti due devo eliminare quello in accesso ed ecco qua questa ad esempio è la penisola sorrentina e abbiamo quello che è il DEM a 20 metri della penisola sorrentina potremmo anche scaricarlo questo DEM appunto come se fosse un servizio che abbiamo sul nostro PC e la modalità peser scaricarlo è praticamente la solita quindi con il destro andiamo adesso a prendere un clip di questo DEM con il destro export save as e possiamo andare a definire quella che è l'estensione clicchiamo sul map canvas extend così da prendere quello che stiamo vedendo noi in questo momento e non ci resta quindi che andare a salvare sul nostro PC quello che è il dato quindi basta cliccare su ok e verrà processato la nostra richiesta e appena sarà ultimata avremo nella TOC il ritaglio del nostro DEM nazionale dalla barra qui sotto è possibile andare a vedere quello che è il tempo di processamento o meglio la percentuale di processamento e quindi è possibile vedere anche dove viene salvata questa informazione appunto in una cartella sul mio PC ecco qua il dato è stato processato in precedenza ti ho nominato quello che è il WMS del cadastro e siamo qui appunto a vedere come è possibile interagire con esso da qualche settimana questo servizio è diventato open a tutti gli effetti con questa licenza la CC BY 4.0 che consente appunto di utilizzarlo senza le restrizioni e limitazioni di utilizzo che c'erano fino a qualche tempo fa il link di nostro interesse al servizio è questo qui quindi si va ad aggiungere come al solito in questo modo e come puoi vedere questo servizio è un servizio molto ricco di informazioni c'è la cartografia catastale la parte relativa appunto a quelle che sono le province le mappe, acque, strade, le particelle, i fabbricati, le restrizioni e dati insomma ancilliari come il copyright e il dato di default quindi ad esempio andiamo a caricare quelle che sono le particelle il dato viene messo nella TOC ma non viene visualizzato fin tanto che non si scende a un livello di zoom adeguato al modo in cui è stato distribuito questo servizio quindi dobbiamo iniziare un po' ad avvicinarci e man mano che ci avviciniamo potremmo iniziare poi a vedere finalmente qualcosa di utile vado ad inserire link satellite di sfondo al posto di questa mappa regionale ecco qui che si stanno per caricare quelle che sono le particelle catastali come puoi vedere non sempre tutte le aree sono sono coperte da questo da questo servizio insomma il servizio del catastro è un servizio che poi viene aggiornato volta per volta da quelli che sono i vari enti che si occupano dell'aggiornamento del servizio catastale la cosa interessante è che possiamo andare a interrogare la particella e avere informazioni su di esse quindi queste sono le informazioni connesse andiamo anche a visualizzare ad esempio i fabbricati vestizione e strade ecco qui che i fabbricati sono stati caricati insieme con le strade e ovviamente questo è un servizio che richiede un po' di tempo per essere può essere poi visualizzato sul canvas perché è un dato molto ricco di informazioni proviamo a caricare solo una informazione per volta ad esempio i fabbricati ecco qui il download è un po' più rapido e vediamo adesso le vestizioni che non sono altro che i numeri delle varie entità che sono presenti al video strade queste aree appunto in grigio acque dove fossero presenti nella zona che stiamo visualizzando i confini delle mappe che puoi vedere qui in verde eccoli qui e quindi in questo modo hai tutto il pacchetto del WMS attivo del WMS del cadastro attivo sono state appunto importate tutte le informazioni in esso contenute e tutto si renderizza quindi si visualizza in funzione al livello di zoom a cui stiamo lavorando quindi man mano che ci allontaniamo nonostante queste informazioni sono attive quindi i layer sono accesi nella TOC non vengono visualizzati perché la scala risulta essere praticamente non appropriata per la visualizzazione del dato ad esempio facciamo la stessa cosa questa volta su Roma il cadastro delle acque ovviamente ci fa vedere quello che è il tevere sono visibili anche quelli che sono i i mappali e le strade e andando a zoomare man mano che zoomiamo compaiono le ulteriori informazioni che sono quelle poi relative alle particelle e agli edifici dunque questo è tutto per questo aspetto relativo al WMS del cadastro adesso il ruo è un periodo di assicurazione